Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento della nostra informazione. C'è la pagina del lavoro in apertura. La FIOM non firma gli accordi di Torino per Sevel. Domani pomeriggio a Pescara il presidente della regione Gianichiodi incontrerà i sindacati proprio per l'avvertenza a Sevel. Il segretario provinciale FIOM di Rocco dichiara che aspettavamo questo incontro da tre anni. Il nostro servizio. Solo FIOM tra i sindacati metalmeccanici non ha sottoscritto gli accordi di Torino per Sevel. Le ragioni del no dichiarà il TG Maxi e il segretario provinciale Marco Di Rocco riguardano il ruolo dell'RSU che viene sminuito e il futuro di Sevel che resta incerto. Le RSU non possono più svolgere il loro ruolo in fabbrica, non possono più rappresentare gli interessi dei lavoratori ma devono sottostare soltanto alle decisioni che ha la FIAT. Per cui tutti gli accordi devono essere rispettati e nessuno può opporsi. Il secondo accordo invece è quello più brutto perché noi avevamo chiesto una visibilità fino al 2017 su che cosa deve fare questo stabilimento e purtroppo la FIAT ci ha detto che per i prossimi tre mesi ci sarà una salita produttiva e poi a settembre torna il buio totale sulle produzioni. In cambio di questo abbiamo ottenuto zero, nel senso che i lavoratori non hanno ottenuto nulla. La Sevel ha chiesto quattro sabati in più, quindi tutto il mese di luglio con i sabati straordinari. Due domeniche si cambia la metrica per cui i lavoratori non vengono informati su nulla. Duramente criticata anche la scelta FIAT di non recuperare gli ex-cuti, circa 1.000 interinali rimandati a casa oltre un anno fa. Noi avevamo 980 precari che stavano aspettando la risalita produttiva per andare in fabbrica. Con questo accordo di Torino la FIAT ha detto ufficialmente che non riprende nessuno dei vecchi contratti a termine. Assumono soltanto per tre mesi lavoratori interinali ma soprattutto nuovi, quelli che vengono dal mercato del lavoro. È una presa in giro al territorio, è una vergogna che si fa nei confronti di una regione come l'Abruzzo e anche come il Molise perché sono tanti dal Molise che sono venuti a lavorare qui nel 2008. E domani pomeriggio in regione a Pescara finalmente ci sarà il tanto atteso incontro tra il presidente Gianni Chiodi e i sindacati sulla vertenza Sevel. Un incontro chiesto all'indomani delle elezioni regionali di fine 2008. Sì, siamo proprio curiosi perché un mese fa Chiodi ha incontrato il vice di Marchionne dove gli ha prospettato lo sviluppo. Nel frattempo noi siamo stati a Torino e lo sviluppo appunto non c'è perché si vede soltanto per i prossimi tre mesi quindi Chiodi come sempre arriva in ritardo. Un mese fa è andato a parlare con la Fiat e ci convoca solo oggi. Non riusciamo a capire se questa è una manovra elettorale oppure una manovra soltanto per lavarsi la coscienza. Ancora a lavoro, nuovi interventi di ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori abruzzesi sono stati disposti dal CICAS, il Comitato di Intervento per Crisi Aziendali di Settore. Per gli interventi approvati sono stati messi a disposizione 15 milioni di euro a favore dei lavoratori dell'area del sisma e 20 milioni per i lavoratori operanti nel resto d'Abruzzo. È tornato a riunirsi a Pescara e il CICAS, Comitato di Intervento per Crisi Aziendali e di Settore. All'unanimità sono stati disposti nuovi interventi di ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori abruzzesi grazie ai residui dei fondi messi a disposizione del Comitato e 35 milioni di euro concessi dal Governo centrale. Nello specifico 15 milioni di euro saranno destinati a favore dei lavoratori dell'area del sisma e 20 milioni per i lavoratori operanti nel resto della Regione. Nel bimestre febbraio-marzo 2011, addetto all'assessore regionale al lavoro Paolo Gatti, la cassa integrazione in deroga è stata richiesta da oltre 200 aziende ed ha evitato il licenziamento di circa 4.000 lavoratori. La mobilità in deroga negli anni 2010-2011 ha fornito una valida risposta ad oltre 5.500 lavoratori espulsi dal processo produttivo e privi di sostegno al reddito. Inoltre il Comitato ha concesso altre 35 settimane di cassa integrazione per i 136 lavoratori della Burgo, un intervento che prevede in via del tutto eccezionale lo stanziamento dedicato di un milione e mezzo di euro per agevolare il credibile processo di riconversione in atto dell'azienda e la conseguente salvaguardia dei posti di lavoro. Con le scelte assunte oggi, ha aggiunto l'assessore, proseguiamo a garantire la tutela del reddito a migliaia di lavoratori e famiglie. Siamo ancora nella fase di coda della crisi ma si comincia a vedere una piccola ripresa seppur a macchia di leopardo. Ci sono dei segnali positivi che ovviamente non riguardano solo l'Abruzzo, sono generali. Sì, una ripresina un po' lenta, un po' selettiva, però degli indici, ecco, per esempio sugli ammortizzatori sociali in deroga notiamo una caduta delle richieste, non una caduta fragorosa ma insomma una diminuzione delle richieste e questo testimonia un lievissimo miglioramento della situazione complessiva. Ancora notizie sullo fronte del lavoro, proprio al termine, al margine della CICAS, è stato annunciato che sono state concesse 35 settimane di proroga della Cassa Integrazione Guadagni per la Exburgo. La notizia è stata annunciata dal sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. E poi si è chiusa definitivamente con la firma dell'accordo da parte dei dieci lavoratori rimasti, compreso il portavoce Settimio Ferranti, l'ultradecennale vicenda degli ex lavoratori socialmente utili, collaboratori dei comuni della Val Vibrata, impegnati in passato in attività socialmente utili degli enti. ciascuno percepirà un contributo di 52.200 euro. L'intesa produrrà effetti dal prossimo 30 di aprile. Ed ora c'è la cronaca, tocca anche la provincia di Teramo, l'operazione antidroga denominata Blur. In manette sono finiti un marocchino residente a Mosciano Sant'Angelo e poi un albanese residente a Nereto, ma di fatto domiciliato a Villa Rosa di Martinsicuro e poi un altro residente di Martinsicuro e un destinatario anche di perquisizione domiciliare residente ad Alba Adriatica. Un albanese destinatario di perquisizione domiciliare residente a Nereto. L'operazione di polizia coordinata dalla squadra mobile di Ascoli vede la collaborazione delle squadre mobili di Teramo, Napoli e Caserta, oltre che del commissariato di San Benedetto del Tronto. Sei le persone, tra corrieri e spacciatori, arrestati in flagranza durante le fasi investigative. Dieci quelle denunciate in stato di libertà per favoreggiamento personale, venti soggetti segnalati in prefettura quali acquirenti e due chili di droga tra cocaina e marijuana sequestrati. Voltiamo pagina a Pescara. Il gruppo consigliare dell'Italia dei Valori propone l'esproprio per la realizzazione del Parco Pineta Nord. Carlo Costantini dichiara che bisogna attuare quanto previsto dal piano regolatore. Per la realizzazione a Pescara del Parco Pineta Nord bisogna attuare quanto previsto dal piano regolatore, ovvero l'esproprio e non ricorrere all'accordo di programma. Per il consigliere regionale dell'Italia dei Valori, Carlo Costantini, la possibilità di un accordo di programma aprirebbe le porte a soluzioni che riporterebbero il comune in condizioni ancora più svantaggiose rispetto a quelle già previste prima dell'approvazione della variante e delle invarianti. Le possibilità edificatorie in un territorio sono stabilite dal piano regolatore, che è la legge urbanistica che di fatto disciplina le possibilità di utilizzo del suolo. Cosa dice il piano regolatore sull'area Parco Nord? Dice esproprio. Di conseguenza i proprietari di quell'area, al pari delle decine, delle migliaia di cittadini, proprietari di altre aree, devono osservare le prescrizioni del piano regolatore. L'amministrazione deve espropriare. Occorre superare la logica delle deroghe ad personam, di accordi di programma che hanno consumato anche gli unici spazi disponibili. Dobbiamo vietare in termini assoluti il consumo di altre parti del territorio in una città che non ne ha più, promuovendo e favorendo in tutti i modi la riqualificazione dell'esistenza. Costantini infine interviene anche sulla questione dragaggio. Le amministrazioni pubbliche interessate devono considerare strategica e prioritaria la bonifica del fiume Pescara, uno dei sette fiumi più inquinati d'Italia. Con questo otterrebbero un risparmio gigantesco delle attività di dragaggio, unita anche ad attività che richiedono in primo luogo la normalizzazione dell'attività di dragaggio. Il dragaggio si fa in tutti i porti. Solo a Pescara nasce ogni volta come emergenza, probabilmente perché le logiche di emergenza consentono di gestire meglio gli appalti. E poi l'affermazione piena della regola del chi sbaglia paga. La diga foranea che fa da tappa e produce l'insabbiamento è l'effetto di prescrizione del Ministero che ha imposto la realizzazione di quel progetto. Chi ha sbagliato a fare il progetto, cioè il Ministero, si deve fare carico di darci soldi per uscire dall'emergenza e si deve fare carico di darci soldi per fare le modifiche infrastrutturali che ci consentono stabilmente di superare questa situazione inaccettabile. Siglato un protocollo di intesa tra l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'Ente Parco Nazionale della Maiella e la provincia di Pescara per la gestione coordinata delle popolazioni di cinghiale presenti sul territorio. Gli interventi dovranno essere condivisi e pianificati per migliorare le strategie di conservazione e gestione della fauna selvatica e del suo ambiente, con particolare attenzione alla tutela delle attività agricole sostenibili presenti nella provincia di Pescara e alle esigenze delle popolazioni locali. Tra gli obiettivi c'è anche quello di provvedere alla semplificazione delle procedure di indennizzo dei danni causati dai cinghiali. Un gruppo tecnico costituito dal personale degli antiparco e dell'amministrazione provinciale stabilirà periodicamente le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati. La provincia di Pescara elaborerà per le zone esterne delle aree protette un regolamento per il prelievo dei cinghiali durante la stagione venatoria. Il documento sarà predisposto, secondo le linee guida, per la gestione del cinghiale stabilite dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. Voltiamo pagina. Villa Sant'Angelo sono gli eroi minori, i protagonisti dei nuovi vicoli nel villaggio MAP di Borgo Trento. Il villaggio realizzato dalla provincia di Trento subito dopo il sisma del 2009. Da Peppino impastato a Nicola Calipari, da Gionfante a Giorgio Perlasca, da Alda Merini a Norma Cossetto. Sono alcuni dei nomi dei personaggi scelti dall'amministrazione comunale di Villa Sant'Angelo per l'intitolazione delle nuove vie del villaggio MAP, che innanzitutto ricorda dal nome stesso del villaggio Borgo Trento, benefattori e soccorritori della prima ora, come l'Emilia Romagna. La manifestazione si è svolta alla presenza, tra gli altri, di Lorenzo Dell'Ai, presidente della provincia autonoma di Trento, che ha realizzato il villaggio, e della giornalista Toni Capuozzo, affezionato a ospite nella tendopoli di Villa, nell'estate 2009. Con questa iniziativa, ha detto il sindaco Pierluigi Biondi, l'amministrazione ha voluto raccontare le vicende di donne e uomini di quella storia minore del nostro paese, poco conosciuta ma altrettanto importante. Esempi quotidiani di eroismo e di creatività che fanno parte integrante del destino comune degli italiani e ne costituiscono lo spirito più genuino. A contribuire alla realizzazione delle targhe che indicano i vicoli del villaggio è stata l'associazione Vabbo, vasto a Bologna e dintorni. Eno Gastronomia, la regione Abruzzo e Slow Food, condotta Abruzzo e Molise, presenteranno a Terramo il prossimo 30 aprile un film sulle virtù terramane. La condotta petruziana di Terramo di Slow Food ha fornito uno specifico contributo per la valorizzazione di un piatto simbolo della cucina terramana, le virtù, che secondo tradizione si prepara e si gusta nella giornata del primo maggio. Abbalendosi di un giovane regista terramano è stato realizzato un documentario che racconta sotto il profilo antropologico, culturale e culinario uno cibo rituale che fin dai tempi antichi segnava il corso delle stagioni legandosi agli antichi riti e tradizioni di passaggio che cadenzavano le società contadine. Il fiduciario della condotta Slow Food petruziana, Giorgio Chiarini. È un piatto che segna il passaggio tra l'inverno e la primavera. di forme simili di questo piatto se ne trovano in tutta Italia cioè che mettono insieme i prodotti che si ricoprono, che sono avanzati dalla stagione invernale con i prodotti nuovi che si trovano in campagna. Però a Teramo diciamo che questo piatto trova l'eccellenza perché è veramente straordinario e si colloca in una città che è una provincia, una regione, una nostra regione che vanta appunto questo patrimonio incredibile che viene sottovalutato, che viene o non viene appunto valorizzato come si dovrebbe. A sostenere l'iniziativa l'assessorato regionale all'agricoltura e il comune di Teramo con l'assessorato alle attività produttive Mario Cozzi. Noi crediamo insomma che rilegare a quello che è un po' la cultura del nostro territorio, delle eccellenze legate ai prodotti e soprattutto in questo caso da un piatto tipico della città di Teramo ma anche in provincia di Teramo e dargli un risvolto che non sia solo quella del primo maggio che è l'appuntamento principale ma anche di tutta la mensilità di maggio sia fondamentale per attrarre quello che noi abbiamo alcune difficoltà ancora ad attrarre con tutte le nostre peculiarità i turisti nel nostro territorio. La pagina del calcio in serie B è vigilia di campionato il Pescara domani sera riceverà il Frosinone contro l'ultima della classe i biancazzurri dovranno conquistare tre punti. Vigilia di campionato per il Pescara col Frosinone di scena domani ore 20.45 all'Adriatico Giovanni Cornacchia in casa biancazzurra la notizia positiva viene dall'infermeria quella negativa invece dal giudice sportivo Cascione e Tognozzi sono pienamente recuperati e si candidano entrambi per un posto da titolare in mediana Mengoni e Ganci invece sono squalificati per un turno Verratti sarà impegnato nella seconda amichevole in Repubblica Ceca e non sarà del match in avanti in 4 per 2 posti Bucchi, Soddino, Sanzovini e Maniero favoriti i primi due il Delfino ha tutte le carte regola per tornare al successo contro un Frosinone all'ultima spiaggia un campionato infatti quello dei Laziali nato sotto una cattiva stella è proseguito tra mille difficoltà a nulla sono valsi infatti sia il cambio di guida tecnica da Carboni a Campilongo sia la rivoluzione nel mercato invernale che ha portato nuovi calciatori in ciociaria su tutti Baclet ora infortunato tristemente relegato a Fannalino di Coda insieme alla Trestina con soli 34 punti in carniere il Frosinone possiede la seconda peggior difesa del torneo ed un attacco poco prolifico in fausto anche il rendimento esterno in 17 partite disputate Sicignano e compagni hanno colto appena due vittorie cinque pareggi e ben dieci sconfitte numeri impietosi che condannano il Pescara all'obiettivo della sola vittoria Ancora calcio il Lanciano prepara il confronto di sabato prossimo contro il Pisa l'attaccante di Gennaro promette quattro vittorie nelle ultime partite della stagione regolare Francesco di Gennaro si ritorna a parlare occorrono 12 punti per sperare sperare Sì questa dobbiamo più che sperarci dobbiamo crederci perché ci stiamo allenando per questo purtroppo gli errori sono stati fatti da parte mia da parte di tutto poi le annate sono particolari però noi ci crediamo e senza fare tante chiacchiere senza illudere nessuno domenica dobbiamo cercare di vincere questa partita assolutamente se i punti di stacco sono tanti siamo stati noi che abbiamo sbagliato parecchie partite sia in casa che in trasferta e quindi dobbiamo tentare fino a che c'è speranza a chi dice che il campionato ormai è finito che Lanciano vivrà queste ultime partite ormai segnato dall'anonimato cosa rispondete? chi crede questo è inutile che venga allo stadio a noi ci serve gente che ci venga ad incitare perché perché ne abbiamo bisogno e perché sappiamo che loro ci tengono quindi speriamo che domenica sia una bella partita con con tante persone che vengono a fare il tifo non tanto per noi per la squadra per la città per Lanciano a noi questo ci interessa davanti a Lanciano il Foggia e poi Taranto e Atletico Roma tra le tre l'Atletico Roma è quella che più sta accusando il colpo in un momento di difficoltà sì ma siamo noi che Atletico Roma o Foggia o Taranto non fa differenza siamo noi che dobbiamo cercare di vincere queste quattro partite senza pensare a niente perché ormai a questo punto non si può pensare più dobbiamo scendere in campo determinati e fare il nostro alla partita Dino Pagliari sul percorso del Lanciano tenteremo di fargli una bella sorpresa di Pasqua anche al Mister il Lettigi Max termina qui grazie a tutti per l'attenzione arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti